La denominazione di origine protetta pane di Altamura è propria del pane ottenuto mediante l'antico sistema di lavorazione, a lievito madre o pasta acida, sale marino e acqua e dall'impiego di semole rimacinate di varietà di grano duro, appulo, arcangelo, duilio e simeto, prodotte nel territorio delimitato nel disciplinare di produzione, in particolare nei territori dei comuni della Murgia nord-occidentale. L'origine del pane di Altamura è legata alla tradizione contadina tipica della zona di produzione, in particolare quale elemento base del regime alimentare delle popolazioni alto-murgiane era prevalentemente impastato e lavorato tra le mura domestiche e successivamente cotto in forni pubblici. Il pane, dal caratteristico profumo di peso non inferiore a 0,5 kg, è caratterizzato da una crosta, dallo spessore non inferiore ai 3 mm e dalla mollica di colore giallo paglierino con alveolatura omogenea. La principale caratteristica era la durevolezza necessaria a garantire l'alimentazione dei contadini e dei pastori per una settimana nei 15 giorni trascorsi nelle masserie disseminate tra le alture murgiane. Il pane è un elemento essenziale della tavola pugliese e di noi perché ci ha fatto vivere, ci ha fatto crescere ed è un elemento su cui dobbiamo concentrare l'attenzione. I cittadini devono con noi difendere questo patrimonio e chiedere, diciamo a schiena dritta, provvedimenti come stiamo facendo al governo uscente e al prossimo governo che mettano nelle condizioni di competere e di recuperare quel gap infrastrutturale che è quello della rete energetica e anche diciamo delle reti di approvvigionamento, un concerto di azioni e di idee con tutti questi operatori che diciamo con la loro vita, la loro storia ma anche le ambizioni di un territorio che sono una cosa assai positiva mette in vetrina una puglia dei prodotti e dei sapori. E domani ad Altamura si celebra la giornata mondiale del pane, elemento basilare della dieta mediterranea. Il suo valore va oltre gli aspetti nutrizionali, visto che aiuta l'economia del territorio rappresentando un simbolo del Made in Italy, Lucia Forte, presidente del Consorzio del Pane di Altamura DOP. Saranno organizzate mostre, eventi, spettacoli che partono dal significato più universale del pane e ha un forte valore simbolico perché evoca la pace, la speranza, la convivialità e per noi altamurani significa anche il volano per lo sviluppo della nostra economia del territorio e quindi diventato da ormai da anni un brand internazionale del Made in Italy che ci permette oggi anche di creare connessioni, legami culturali, sociali ed economici.